GDPR, data transparency, privacy, non privacy, ti scoppia la testa, a meno che non facciamo un pochino di chiarezza in mezzo a tutta questa confusione. Ed è proprio l'obiettivo della puntata di Impact Girl di oggi, dove con l'aiuto di una vera e propria esperta in materia andremo a scoprire come mai la protezione dei dati non solo non è qualcosa che danneggia un'azienda, ma può davvero aiutarla a crescere. Un vero e proprio cambio di prospettiva. Prima di tuffarci nel cuore dei nostri dati, ti ricordo come sempre di iscriverti al canale YouTube attivando le notifiche sulla campanellina che trovi accanto al pulsante iscriviti, oppure se stai guardando l'episodio da beats-academy.it slash podcast di iscriverti via mail per non perderti nemmeno una puntata. Bando alle ciance, cominciamo! Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale e tutta al femminile. Oggi parliamo di trasparenza dei dati dal punto di vista non solo del consumatore, ma soprattutto dell'azienda, quindi di noi come imprenditori e business owners. E scopriremo perché adempiere a quelle che sono le nuove regole sulla protezione dei dati, non deve per forza penalizzarci, ma al contrario può far crescere la nostra attività, se riusciamo a capire perché ci sono queste regole e come funzionano. Quindi faremo chiarezza sul perché innanzitutto le regole sono cambiate all'apparenza così all'improvviso, soprattutto per chi opera nell'Unione Europea e soprattutto però perché non devono spaventarci e come quindi possiamo rispettarle e crescere con loro. Faremo tutto questo in compagnia di Isabella De Michelis. Ciao Isabella! Grazie per essere qui con noi oggi Isabella, tu porti un sacco di esperienza con te, sei CEO e fondatrice dell'iTech company Hi Pulse LLC, sei anche CEO di Ernie App, che è un'app la cui mission è quella di renderci consapevoli del valore dei nostri dati per le grandi società del digital, in maniera da imparare a gestire l'utilizzo di questi dati personali da un'unica interfaccia che è appunto quella che Ernie App offre. Parleremo di questo durante la nostra chiacchierata. Sei anche board member di Women in Leadership, per cui fai un sacco di cose, sai un sacco di cose e quindi ti do subito la palla e ti chiedo innanzitutto da dove possiamo partire per abbracciare queste nuove regole dalla GDPR alla Cookie Law a tutto quello che insomma tutta la compagnia bella che le segue e per non farci prendere dal panico e per capire come invece possono essere utili per la nostra crescita aziendale. Sono felicissima di questa opportunità e sicuramente tenderei a consigliare tutti quanti a non spaventarsi. In realtà l'arrivo della GDPR e l'arrivo di altre regole che poi nei prossimi anni vi spiegheranno i propri effetti anche al di fuori del trattamento dei dati personali, perché sappiamo che la GDPR è per i dati personali, quindi l'economia digitale consente in realtà di creare tantissimi dati, non sono tutti personali, l'Europa ha definito il concetto di dato personale in un modo piuttosto atipico, non l'ha classificato dicendo sono A, B e C, ha anche detto che quando A e B, anche presi in contesti diversi, si collegano fra di loro, possono diventare un dato personale. Questa è stata una cosa assolutamente epocale, unica, diversissima da qualsiasi altra disciplina giuridica nel mondo che guardava i dati personali e la dobbiamo guardare come una forza, è una forza della nostra economia, una forza del nostro diritto e anche una forza della nostra immagine. Immaginatevi che ci sono circa 128 paesi oggi e non sono io che lo dico, è il Supervisore europeo della protezione dei dati personali Giovanni Butarelli che lo ha sostenuto e lo ha presentato nella sua conferenza annuale che si è tenuta alla fine dell'anno scorso, ci sono pensate 128 paesi del mondo che hanno copiato la legge europea sulla privacy e a distanza di pochi mesi, questo è stato detto da Giovanni Butarelli a ottobre, adesso stiamo semplicemente a marzo, vi posso dire che gli Stati Uniti che sono notoriamente il paese che ha fatto partire internet, l'innovazione, le più belle applicazioni del mondo che conosciamo vengono da quella parte del mondo, la realtà dei fatti è che anche lì qualcosa stride. Perché stride? Perché in realtà anche se l'Europa ci ha messo 10 anni a tirare fuori le nuove regole e le ha fatte in un modo che qualche volta spaventa l'imprenditore, la verità dei fatti è che internet è diventata una cosa diversa da quella per cui si era fatta nascere internet, era una piattaforma che serviva a determinati use case, a determinate cose, ha fatto crescere in volata tantissime aziende che hanno cominciato a acquisire tantissimi dati, ad analizzarli, a processarli, a utilizzarli, però un po' in assenza di regole, non c'erano regole di privacy, non c'erano regole di protezione dei consumatori, non c'erano regole di concorrenza, non c'erano regole. La bellezza di internet è questo, è stata una crescita in volata, esponenziale, partita dall'America, poi si è stesa in Europa, poi è passata in Asia, adesso sta pervadendo l'Africa, ma la realtà dei fatti è che comunque c'è qualche cosina che non andava troppo bene. Quindi gli europei ci si sono messi a lavorare abbastanza rapidamente, ma sono stati lentissimi a riuscire a codificare qualcosa e la codifica è stata la GDPR, è stata adottata a Bruxelles nel 2016, è entrata in vigore nell'economia reale affinché le aziende si adeguassero a maggio del 2018, ancora oggi si stenta a capire esattamente quant'è il livello di compliance rispetto alla GDPR. Gli Stati Uniti non hanno la GDPR, però hanno tantissime società di internet che avrebbero assolutamente non solo bisogno di applicarla, perché la GDPR non si applica solo in Europa, questo bisogna saperlo, la GDPR si applica in tutto il mondo, basta avere una operatività economica verso una zona europea, un paese, un sito, un cliente e automaticamente gli effetti giuridici della GDPR si esplicano, però gli Stati Uniti non avevano e non hanno ancora una legge equivalente. La cosa che terrei è che i lettori tengano presente quando dicono, oh mio Dio, cos'è la GDPR, oh mio Dio mi cambia tutto il business, ma se ne potessimo fare a meno sarebbe tanto meglio, no, non bisogna vederla in quel modo, perché se anche un mercato così importante, così dinamico, così fiorente come gli Stati Uniti, oggi al congresso americano stanno stabilendo le regole del gioco della privacy anche per il mercato americano, lo stanno facendo in ritardo, lo stanno facendo guardando al modello europeo e chiedendosi va bene, va male, facciamolo uguale, facciamolo diverso, ma se lo stanno chiedendo e vuol dire che ce n'era un gran bisogno, il mondo non si muove in parallelo, in contemporanea se non ci sono dei bisogni condivisi. Quindi anche senza entrare troppo presto, magari lo lasciamo per la seconda parte della chiacchierata su quali sono gli abusi dei dati, che sono diciamo una declinazione particolare del perché c'è la GDPR, perché bisogna evitare che ci siano gli abusi nel trattamento dei dati, parliamo prima della parte più facile, che è quella del perché c'è la GDPR. La GDPR ed è il motivo per cui le aziende dovrebbero lanciarsi, non ostacolare l'uso delle norme previste in GDPR come una nuova tecnica di marketing, un nuovo modo di fare brand, di fare image, è proprio il concetto del oggi io azienda ho una responsabilità, la mia responsabilità è di essere trasparente e onesto verso i miei clienti e in realtà questa cosa c'è sempre stata nell'economia reale, nessuno si sognerebbe di darti un prodotto scaduto perché tu non torneresti a comprarlo, nessuno si sognerebbe di venderti un vestito scucito perché tu non torneresti in quel negozio, quindi il concetto di fedeltà nella economia reale è molto ancorato al quanto il cliente si ricorda che tu l'hai trattato bene e non è soltanto un'equità di prezzo, è anche che il valore corrispondeva al prezzo, cioè il bene che lui ha comprato, il servizio che lui ha comprato corrispondeva alla realtà e chiaramente l'utente che entra nel negozio ha la possibilità anche di tornarci perché si lamenta, perché riporta indietro il bene, perché rifiuta di essere immesso in un meccanismo nel quale lui non conta niente e quindi cosa fa? Ti scrive, ti dice che non andava bene, te lo riporta, se lo fa cambiare, protesta si fa ridare i soldi. Questa disintermediazione invece di internet in cui fondamentalmente dall'altra parte molto spesso non c'è un interlocutore fisico, c'è un chatbot che ti parla e ti dice siamo qui per aiutarti, dici qual è il tuo problema, il mio problema è che io non voglio più tenere tutte le mie mail da te e le voglio portare da un altro, il chatbot risponde non ho capito la domanda, me la puoi rifare per favore? Quindi tendenzialmente l'azienda che ha acquisito dei dati, li ha acquisiti relativamente al comportamento del suo consumatore, lo ha profilato, lo ha analizzato, lo ha scoperto, ha capito come andare incontro alle sue esigenze, alle sue cose, si dimentica in un momento così importante si dimentica di rispettarlo, perché in quel momento l'utente gli sta chiedendo ma mi spieghi a cosa servono questi dati? Io te li do, ma tu mi spieghi e tu mi dai modo di toglierteli se io non sono più contento? Questo è quello che veramente la GDPR ha introdotto e ha portato, quindi è solo un altro canale di marketing. Isabella, voglio farti una domanda un po' specifica, perché ovviamente io lavoro in questo contesto, quindi il panico che ho percepito è stato soprattutto da altre realtà operanti nello stesso contesto, che è il contesto della lead generation, quindi queste aziende che funzionano perché fondamentalmente attraverso campagne di traffico ad esempio a pagamento, per cui ci hanno investito ovviamente un quantitativo di denaro economico spesso abbastanza elevato, consistente, si trovano, quindi si sono trovate con queste liste di persone che volendo potevano, che prima potevano contattare in qualunque momento per proporre la qualunque cosa e che improvvisamente, anche qui poi c'è stata una grandissima confusione, nessuno sapeva esattamente cosa si potesse o non si potesse più fare, però c'è stato questo terrore di comunicare a liste di database di email di centinaia di migliaia di indirizzi il fatto di dire ok vuoi restare o te ne vuoi andare, per paura che le persone si cancellassero non tanto perché non volessero più seguire loro, ma per il fatto che la trovavano un'occasione per fare un po' le pulizie di primavera. Mi cancello da tutto ok e riparto da zero, però io quel contatto io azienda l'avevo acquisito con delle campagne a pagamento e da lì si è creato un panico pazzesco. In realtà questo è un ottimo punto perché è proprio quello che succede all'interno di un meccanismo di mercato dove le regole non erano scritte e il mercato si era autoregolato, in realtà il mercato non prevedeva che queste liste fossero a pagamento perché i nomi e i cognomi e le email e i telefoni delle persone non sono in vendita, una persona ti deve dare il suo nome e ti deve dare la sua email e ti deve dare il suo telefono se vuole essere raggiunta, d'altronde prima della liberalizzazione e anche della telefonia c'erano dei tempi in cui c'erano gli annuali telefonici, gli annuali telefonici li pubblicava in Italia la SIP, non li pubblicava chiunque, non avevano tutti quel nome, quel cognome da poter usare, perché? Perché fondamentalmente è estremamente invasivo il modo con cui oggi il marketing è entrato nella vita delle persone, dall'altra parte però le aziende è l'infa vitale, non possono operare il business se non hanno quella linfa vitale, gli intermediari che si sono trovati in mezzo, però è anche vero che per tantissimi anni hanno fondamentalmente creato degli asset di cui loro non erano i legittimi proprietari, parliamo in termini estremamente aperti, estremamente sinceri, guardiamoci in faccia, sono nati broker di dati che hanno arraffato dati di nominativi, di persone, di telefoni, ovunque siano riusciti a farlo e hanno creato queste liste che poi sono state monetizzate ovviamente in totale assenza di consapevolezza e di coscienza da parte degli utenti. Allora qual è il discorso di Ernie Up? Perché io ho voluto fare questa start up? Perché sono arrivata in questo particolare momento storico e non in un altro? Io avevo un lavoro bellissimo, facevo la super mega dirigente per un'azienda americana 500 Fortune Company, gestivo un team di 400 persone, abbiamo lanciato il 3G e il 4G in tutti i paesi del mondo, prima di quello avevo lanciato internet lavorando per Cisco e facendo i router che sono stati praticamente il modo con cui la gente ha scoperto che oltre al mobile c'era il wifi, quindi mi sono sempre trovata in aziende innovative, coraggiose, grandi, potenti, ricche e con un gran nome, per cui sì, hanno la vita difficile ma non così tanto. Io ho deciso di uscire dalle grandi aziende, di provare a fare l'esperimento della start up e di rivolgermi più alle piccole, alle medie, a quelle che hanno più difficoltà a vivere con le nuove regole, perché i grandi in un qualche modo la regola la riescono sempre a cavalcare, anche quando è nuova. Se noi guardiamo per esempio che cosa ha detto Tim Cook quando alla fine dell'anno scorso c'è stata la tirata delle somme dello scandalo di Cambridge Analytica, di quello che era successo anche a Google con Google Plus in India, di altri cases che avevano dimostrato che non tutte, anche le grandi, sono tutte luccicanti nel modo in cui gestiscono i dati, Tim Cook ha detto una cosa piuttosto pesante, piuttosto importante, ha detto la battaglia è quella di evitare la manipolazione degli utenti, la battaglia del domani, la battaglia della democrazia è quella di non essere asserviti alla tecnologia e la privacy è la regola principale, il pilastro della difesa della democrazia. Allora sono grandi parole dette da un amministratore delegato di una grandissima azienda, cosa avrà mai di diverso Apple dalle altre aziende da potersi permettere di essere così un grande predicatore e non trovarsi in una situazione di contraddizione quando poi nel suo business di tutti i giorni anche Apple raccoglie dati, anche Apple ha bisogno di prendere il consenso degli utenti, lo prende in tantissimi modi ma lo deve prendere e se lo riesce a prendere Apple, lo riesce a prendere Google e forse lo riesce a prendere anche Facebook, quante altre piccole aziende riusciranno a farlo nello stesso modo o verranno queste piccole aziende tutte tagliate fuori perché i grandi dominano troppo la gestione dell'acquisizione dei consensi dei clienti, quindi io mi sono fatta questa domanda e mi sono detta questo mondo non mi piace tanto perché è il mondo solo dei grandi, è vero che ho lavorato quasi 25 anni della mia vita solo per i grandi, per cui in un certo senso le regole del gioco dei grandi le conosco bene, però portare qualcosa anche ai piccoli che gli risolve un problema che è come mi prendo il consenso dei nuovi utenti, come non perdo il diritto di avere quelli che avevo nel mio CRM, quanto presto posso riuscire a ricapitalizzare il mio asset di email e di numeri di telefono senza farmi pizzicare da una multa della GDPR che è fatta dall'autorità nazionale ma che comunque è conforme a questo regolamento europeo, cioè io piccolo cosa mi invento? Visto che io non sono il detentore della pagina di Google che si apre ogni volta che qualcuno fa una ricerca, Google adesso ti fa dare di nuovo il consenso, per cui loro sono sempre a posto, Amazon la stessa cosa, Facebook la stessa cosa, quindi questi grandi attori loro avranno sempre il loro modo di cavalcare la nuova regola, perché hanno l'automazione, hanno il capitale e hanno tanta ingegneria, tanta tecnologia e tante applicazioni, il piccolo molto spesso ha un solo applicativo, forse due, spesso non ha neanche mischiato i due applicativi perché non sapeva se era permesso o non permesso di farlo, quindi raccoglie dei dati a destra, raccoglie dei dati a sinistra e non riesce a mischiarli perché è terrorizzato dalla multa e si chiede come fare, quindi noi abbiamo fatto una soluzione molto semplice che parla anche alle aziende piccole, cioè noi siamo un front end di raccolta dei consensi, di fatto qualsiasi fornitore di applicativi che ha un suo login con degli utenti può chiamarci e dirci sentite ma io posso utilizzare la vostra applicazione per trovare il modo di richiedere in maniera pulita, trasparente, revocabile, sana, a poco costo quel consenso? La risposta è sì. Al passaggio cosa succede? Noi vogliamo scombussolare il mercato, noi vogliamo creare delle nuove opportunità, quindi da una parte aiutiamo i piccoli a prendersi più consensi e dall'altra ne togliamo un po' a chi da troppi. Ci spieghi da un punto di vista pratico, io piccola azienda, piccolo sito di e-commerce, ok? Partiamo da una situazione probabilmente molto comune, ho un piccolo sito di e-commerce, vi contatto, ho già il mio database, non so come fare, sono paralizzato, vi contatto, cosa succede a quel punto? È molto semplice, ci contatta e ci chiede se siamo in grado di risolvere questo problema e noi chiaramente abbiamo bisogno di sapere un attimino come lui è strutturato e organizzato a livello informatico, attualmente la nostra azienda ha deciso di fare una scelta tecnologica che è quella di prima cominciare dalle soluzioni mobile login e dopo di interessarci alle altre soluzioni di login che possono essere web o diciamo cookie based perché in questo momento dobbiamo anche darci delle priorità noi, oggi siamo in grado di avere un prodotto che tiene, che funziona, che è reliable per la soluzione mobile login, quindi dobbiamo immaginarci che il sito internet che ci ha contato, lui ha una sua interazione di mobile commerce fatta con un'applicazione mobile per il quale ha un login verso la sua clientela e in questo modo noi riusciamo a gestire all'interno dell'integrazione nel nostro front end di quell'applicazione che il cliente di e-commerce ha un sistema per il quale è incentivante per l'utente di riconfermargli i propri consensi per fini di profilazione, per fini di advertisement, per fini di e-commerce, qualsiasi sia la finalità. Oggi la GDPR dice in una maniera molto esplicita, l'importante è che il consenso sia trasparente, revocabile e la finalità d'uso del motivo, cioè il motivo per cui il consenso viene chiesto rispetto al dato che viene chiesto sia facilmente comprensibile da parte dell'utente. L'utente non sa tante cose, allora noi cosa abbiamo portato nella nostra applicazione di diverso rispetto a soltanto fare una cosa che serve all'azienda, abbiamo deciso di portare uno strumento per le aziende in diretto, cioè un gioco. Dentro la nostra applicazione c'è un gioco che spiega cosa è importante sapere se sei un utente, del perché devi dire sì quando certe aziende te lo chiedono e puoi pesare il tuo sì e stabilire se vale la pena o non vale la pena. Però ci siamo inventati un gioco a livelli, questi livelli sono otto dentro cinque ambienti diversi, questi cinque ambienti simulano la vita reale di ciascuno di noi, cioè tu all'interno dell'ambiente digitale sei nell'ambiente digitale, all'interno dell'ambiente indoor sei dentro casa o dentro l'ufficio o dentro l'aeroporto, sei nell'ambiente outdoor magari stai correndo al parco perché stai facendo ginnastica e all'interno di questi ambienti c'è tutta una serie di attori che sono interessati a te. Lo sono nel senso di vorrebbero sapere quanto tempo hai corso, se eri stanca dopo che hai corso, se hai bevuto o hai mangiato in un posto vicino a dove hai corso, se hai corso con il telefonino ascoltando la musica o se avevi invece l'orologio con il quale contavi il battito cardiaco. Quindi c'è un mondo di aziende che non è che tu mentre corri al parco le vedi, però loro in realtà sono intorno a te interessate a sapere qualcosa di te. Allora noi cosa vogliamo? Che le persone facendo il gioco imparino a capire che i propri consensi hanno un valore, li hanno all'interno di un mercato che magari è invisibile perché tu non vedi tutte le aziende intorno a te che sono interessate a quei consensi ma improvvisamente capisci le dinamiche fra di loro e quando ricevi l'input di quell'azienda che tramite noi ti è venuta a chiedere qualcosa sei più invitato a dire di sì perché hai capito, perché lo hai fatto in maniera non soltanto consapevole ma tu hai ritenuto che è più giusto confermare la tua fiducia, il tuo trust, la tua perdurante fiducia a qualcuno che ti rispetta e ti tratta bene e quando dico ti tratta bene chiaramente ogni azienda sa che cosa significa avere un marketing budget. Da una parte spende i soldi per la pubblicità, dall'altra le spende in promozioni, dall'altra le spende anche investendo sul cliente, offrendogli gli sconti, offrendogli dei premi, dei vouchers di sconto, delle forme che servono a farlo sentire speciale e allora noi all'interno della nostra app che si occupa un po' anche di gestire il problema dei loyalty program quando si è una piccola azienda invece che una mega azienda tipo l'American Express, noi diamo anche la possibilità all'interno di uno store di inserire delle premialità per cui gli utenti riescono a essere sollecitati dopo essere stati educati, imparare a dire di sì quando gli arriva l'input dell'azienda che è interessata e al passaggio vedere se c'è la propria convenienza e ci tengo a dirlo in maniera molto esplicita, questo non significa vendersi dati, significa condizionare il proprio livello di consenso a una forma di valore e di incentivi che l'azienda riconosce alle persone perché loro ritornano sulla loro applicazione, creano ulteriore valore, è stato molto complicato non te lo nascondo perché fare un'applicazione che da una parte ti consente di avere una cabina di regia dei tuoi permessi verso le terze parti, da un'altra ti racconta i misteri di internet, cosa fanno dei miei dati, chi è in concorrenza per i miei dati, ma veramente il mio consenso è così importante, noi ci siamo anche molto divertiti, abbiamo fatto questi quiz che adesso sono 400 domande ma siamo pronti a farne 4000 perché abbiamo visto che i nostri utenti impazziscono, cioè sono più le persone che giocano al gioco che quelle che cominciano a gestire i settings, quindi è piuttosto incoraggiante perché la grande difficoltà di una startup e ancora di più di una che vuole fare un'applicazione mobile è che le persone hanno circa 180-150 app che si sono scaricati sui telefonini e sul tablet e sul desktop, di queste ne usano 10 tutti i giorni, di queste 10 che usano tutti i giorni ne usano 3-4, quasi 3-4 ore al giorno, quindi l'utente è stanco, l'utente è ultrasollecitato, l'utente è affaticatissimo, però la spinta del digitale è ancora di fargli spendere, comprare, ordinare, ingaggiarsi e le grandi applicazioni che vivono fondamentalmente di rivendita del tempo di attenzione dell'utente sono quelle che attraggono di più gli utenti, però per noi è stato importante scoprire con la nostra base installata, noi abbiamo lanciato iOS a fine febbraio e Android poche settimane prima, abbiamo visto che intanto non c'è differenza fra le età, ci sono persone di 16, 18, 20, 30, 50, 60, 70 anni che la usano tutti in una maniera uguale, è molto emozionante perché nel mondo del digitale è difficile riuscire a fare un'app che parla a tutte le età e tutte le lingue, abbiamo visto che non ci sono differenze fra il nord e il sud d'Europa o l'est e l'ovest, in questo momento siamo presenti essenzialmente in Europa e in pochi altri paesi anglosassoni, diciamo al di fuori dell'Europa, Sudafrica, Australia, abbiamo gli Stati Uniti, poi abbiamo lanciato anche in Canada, in Messico, stiamo un po' lavorando per portarla in tutte le lingue perché la vogliamo portare in tedesco, in francese, in spagnolo, in portoghese, in turco, cinese, russo e ci vuole un po' di sforzo e dall'altro punto di vista stiamo introducendo moltissimi altri servizi, voi avrete visto, spero che tu hai visto che ci sono in questo momento Google, Facebook, Instagram e Twitter che sono supportate, ma stiamo preparando per il lancio di Netflix, stiamo preparando nel LinkedIn, stiamo preparando Amazon e quindi vogliamo che gli utenti personalizzano l'app, questo perché una volta che l'utente ha personalizzato la sua Ernie App con i grandi OTT del mondo, in quel momento arrivano le aziende locali e le aziende locali incrociano, incontrano e parlano la stessa lingua, sono locali, non è soltanto l'italiano, è che probabilmente noi finiremo per fare degli accordi con le catene di supermercati, faremo gli accordi con le società di learning, faremo gli accordi con le società di e-commerce che appartengono alla geografia del paese nel quale stiamo e insegneremo anche, speriamo, nel senso buono del termine, poi ognuno vogliamo che sia libero di decidere come vuole i propri settings e i propri desideri di condivisione di dati, però cerchiamo di portare nei nostri account holders il desiderio di essere meno resti a dare dei dati a delle aziende locali e di essere un po' più gelosi dei propri dati verso le aziende globali. Questo è fantastico, soprattutto perché mi piacerebbe tornare e chiudere il cerchio proprio con un appello alle piccole aziende che possono essere locali perché fisicamente rivolte ad una specifica area geografica oppure semplicemente piccole e medie aziende che lavorano nel digitale. Penso anche, non lo so, a chi comincia un piccolo sito dove comincia a pubblicare qualcosa e poi fa una piccola lead generation che magari non è ancora finalizzata una vendita ma che può essere l'inizio di qualcosa. Penso a tutti i freelance che si sono trovati a gestire una cosa molto più grande di loro. Un appello per non soltanto andare oltre la paura ma anche con magari due o tre step che suggerisci di seguire una volta finito questo episodio. Noi saremmo assolutamente felici e assolutamente disponibili di dare anche dei seguiti a questo episodio sperando che ci siano dei feedback degli utenti che chiedano maggiormente approfondimenti sul quanto è facile. Noi quello che veramente, le tre cose che raccomandiamo tutti quando guardano la GDPR è di dire A, gli utenti sono il principale asset delle aziende, vanno coccolati. Oggi c'è un modo semplice per farlo e intercettare il loro livello di fiducia che si esprime tramite il consenso. Tre, qualsiasi sia la dimensione dell'azienda non avere paura di chiederlo il consenso perché nella fase attuale in cui stiamo sono talmente poche le aziende che hanno il coraggio di chiederlo che è un elemento differenziante enorme, è un modo veramente per distinguersi, è un modo per uscire dal buio, di farsi conoscere. Io non ho paura, io lo chiedo, lo conservo e con il mio utente glielo richiedo e non significa fare quelle cose terribili in cui ti sparano i cookie 55 mila volte sulla pagina e poi ti dicono ah non ho mai dato il consenso e non ti faccio leggere la pagina, che fanno arrabbiare gli utenti facendoli diventare dei matti di furia. Non dimentichiamoci e questo è uno degli elementi che è stato diciamo molto fondante all'interno della decisione di fare la start up, le persone tendenzialmente, gli individui per strada, quelli che prendono il telefonino lo aprono e leggono e qualsiasi cosa gli passa davanti, non sanno che oggi c'è un fenomeno estremamente diffuso nel mondo che si chiama l'adblock e l'adblock sta seriamente portando danni al mondo dell'economia digitale perché di fatto consente all'utente di comportarsi in una maniera di free rider, cioè l'utente vuole nel vecchio sistema diremmo la botte piena e la moglie ubriaca, vuoi il servizio gratuito perché non lo vuoi pagare, però non vuoi neanche il sistema con il quale si finanzia che è la pubblicità e la profilazione, quindi in un certo senso è un po' fino a se stesso, cioè andiamo in un conflitto, le aziende vanno in conflitto con i consumatori se i consumatori diventano così egoisti. Quello che noi però abbiamo anche analizzato è che effettivamente la pubblicità è diventata anche sgradevole, è stata invasiva, è ripetitiva, è noiosa e questo perché gli algoritmi stanno abusando del trattamento dei dati, quindi noi dal nostro punto di vista riteniamo che ci siano dei validi motivi per far togliere l'adblock alle persone soltanto se le persone capiscono che i loro dati sono importanti, però a questo punto tanto vale che li diano soltanto a quelli che li rispettano e quindi il mio messaggio alle aziende, quelle del programmatic, alle aziende, quelle che hanno nel tempo costruito delle grandi fortune digitali sulla targetizzazione e il retargeting etc., noi dell'industria, noi dell'impresa abbiamo delle grosse responsabilità, cioè gli utenti che si ribellano e installano l'adblock è un problema per tutti, pagano anche quelli che non sono colpevoli, quindi noi portiamo un'applicazione sul mercato che serve anche a intercettare gli utenti che hanno l'adblock dicendogli togliti l'adblock che è un brutto modo di far sapere che sei scontento, ottieni un'interfaccia che ti consente di dire sì e no a chi tu vuoi, utilizza questo libero arbitrio automatizzato in maniera più cosciente e vedrai che ci saranno le aziende che verranno da te e ti tratteranno molto bene e quindi in questo modo cercare anche di rinfrescare un pochino quello che è il concetto del digital marketing. Bellissimo che veramente ha bisogno di una rinfrescata alla grande, andrebbe messo in lavatrice e poi... Andrebbe un po' messo in lavatrice e pulite un sacco di cose, diciamo che noi la guardiamo dal punto semplice di partiamo ripartiamo dagli utenti, ripartiamo dai consumatori, ripartiamo dai loro meravigliosi dati, ripartiamo dai loro meravigliosi consensi e grazie a loro possiamo fare un sacco di business, un sacco di cose nuove in totale compliance e anche risk regulatory free, perché adesso le autorità della privacy hanno detto che le multe aspettaranno a farle e magari prima si prenderanno le multe molto grandi, molto famosi e molto abusivi, però è un mondo molto grigio, non lo lasceranno cadere, cioè il mio consiglio alle aziende comunque è passata la prima paura, farsi passare la paura, ma non aspettare, bisogna avere delle soluzioni, bisogna presentarle, bisogna testarle, bisogna avere un po' il coraggio di cambiare, non avere paura di chiedere i consensi e lavorarseli i consumatori, loro, l'elemento differenziante sarà veramente chi non ha paura. Come sempre si potrebbe dire. Grazie mille Isabella, è stata una bellissima chiacchierata, io ti ho lasciato parlare perché sei un fiume in piena e perché ero veramente curiosa di conoscerne di più, di saperne di più su un tema che appunto è una bella zona grigia e a volte anche un bel po' scivolosa. Ti faccio un'ultimissima domanda, quale donna pensi dovrei intervistare dopo di te? Ti consiglierei la Elizabeth Warren, candidata alla presidenza degli Stati Uniti, prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti che potrebbe anche farcela, donna intelligente e sensibile che ha annunciato nella sua campagna di voler assolutamente attaccarsi ai grandi monopoli del mondo di internet per romperli e il motivo per cui ti consiglierei di intervistarla è per farle questa domanda. Ma signora Warren, gli utenti del mondo sono molto felici di questi applicativi, è sicura che rompendone la struttura e l'organizzazione otteniamo lo stesso effetto che se invece tutti gli utenti del mondo imparano semplicemente a gestire i privacy settings non si ottenga lo stesso effetto senza rompere quei monopoli che anche se sono monopoli però funzionano così meravigliosamente bene. Mi piacerebbe molto riuscire a raggiungerla, non so se mai ce la faremo, quindi ti chiedo un piano B. Un piano B sicuramente sarebbe interessante incontrare una signora olandese piuttosto nota negli ambienti di Bruxelles, se volete vi posso mettere in contatto con lei, che si chiama Sophie Intveld. Sophie è un'appassionata, anche lei è donna della politica però perché lavora al Parlamento europeo e sono più di dieci anni che ha affiancato tutti i lavori che sono stati necessari per approvare e arrivare alla GDPR e recentemente in un panel in cui ci siamo trovati insieme, nonostante lei sia considerata una delle massime esperte del perché abbiamo voluto la GDPR, perché è scritta così, come aiuterà le aziende europee, perché funzionerà, di fronte a una serie di esempi che io ho portato sul fatto che la GDPR non copre delle casistiche così importanti come per esempio l'utilizzo della voce su internet o i dati che sono prodotti dalle macchine connesse e che quindi tutto quell'ambito industriale rischia di sfuggire in un qualche modo alla valorizzazione del consenso inteso come persona, come individuo e mi ha guardato e mi ha detto dopo 15 anni di onorata carriera in questo mondo mi rendo conto che ho ancora tutto da scoprire su internet. La bellezza di intervistare delle persone è riuscire a trovarne qualcuna che ti dice ancora che c'è ancora tutto da scoprire su internet. Bellissimo, fantastico, grazie mille Elisabella, è stato veramente bellissimo sia conoscerti anche se ancora ad oggi, che è la data di registrazione, non ci siamo ancora viste di persona, ma accadrà presto, ne sono sicura. Grazie mille per essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a voi e spero anche ad altre occasioni. Grazie. Grazie a te. Io ragazzi vi ricordo sempre, come sempre, che sotto al video o all'audio, a seconda che stiate ascoltando o guardando questa puntata del podcast, troverete il minutaggio preciso di tutto quello di cui abbiamo parlato io e Isabella, in maniera tale da scorrere direttamente a quello che vi interessa o di tornare ai punti che vi interessano di più anche dopo aver già ascoltato la puntata. Un abbraccio. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, puoi farlo visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.